A seguito di un acceso di verbio scoppiato per motivi riconducibili a cattivi rapporti di vicinato, ha aggredito con un coltello l'inquilino dell'abitazione adiacente alla sua, tentando di colpirlo con diversi fendenti, senza però provocare ferite gravi. Un uomo di 55 anni, di cui non è stato reso, ha noto il nome, è stato arrestato a Simeri Cricchi dai carabinieri della compagnia di Sella Marina, in flagranza di reato, con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto è stato ricostruito, la vittima assieme ad un amico si era recato nella sua abitazione estiva di Simeri Mare per effettuare la sostituzione dei climatizzatori. Nonostante il preavviso per l'effettuazione dei lavori, i disagi dovuti al rumore e alla polvere hanno fatto perdere la calma al 55enne, che dopo un primo scontro verbale è venuto alle mani con il vicino. La zuffa è terminata, ma la vittima e l'amico, quando stavano per andare via, hanno trovato il vicino, che avrebbe estratto un coltello a serramanico per colpire l'uomo all'addome e al collo, provocandogli ferite da taglio superficiali. La persona colpita si è rivolta al 112 carabinieri. Giunti sul posto, hanno trovato l'aggressore ancora in casa, visibilmente scosso. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare all'interno dell'abitazione del 55enne nove coltelli a serramanico di varia tipologia e dimensioni, tra cui quello utilizzato per l'aggressione.